E' stato confermato Sindaco? Sì, un bel risultato. Grazie a loro, alla lista, all'amministrazione uscente, a chi non si è ricandidato, che se questo risultato è arrivato, è arrivato per il buon lavoro fatto in questi cinque anni. Cosa farà subito stasera? Continuiamo a fare quello che abbiamo fatto, cioè non ci siamo fermati per niente. Oggi è stato il primo giorno, Tonino, che non siamo andati in Comune in cinque anni, perché ci sembrava giusto non andare. C'è una grande emozione. Tanta. In questo mese c'è tanta emozione, ma ne abbiamo ingoiati di cattiverie in questo mese, tante. Credo che non lo meritavo io, non lo meritava la mia squadra, quella uscente, quella entrante. Uno può essere definito incapace. La critica politica ci sta, non l'ho detto durante i comizi, ma raccogliere, e poi non farò più nulla di polemico, nelle case dei miei concittadini, candidati avversari, che accusavano la nostra moralità, la nostra onestà. La mia è una squadra onesta. Ci possono dire tutto. Siamo brutti, incapaci, ma siamo gente onesta, che abbiamo lavorato cinque anni per questa comunità. e questa emozione deriva soprattutto da questo. Buon lavoro allora. Grazie.